Come valorizzare al meglio la tua immagine in pista? Ti capita spesso di guardare in giro e vedere altri piloti che riescono ad emergere dalle categorie minori proprio sfruttando al massimo i propri canali di visibilità. Ci hai mai pensato? Più visibilità, più follower e una migliore immagine contribuiscono ad attirare più sponsor. E i più sponsor consentono di crescere più rapidamente nella tua carriera di pilota. Perché in pista non basta sapere andare forte. Ci vogliono anche questi. Ciao, sono Marco Privitera, direttore di LiveGP.it e fondatore di LiveGP Communication, realtà dedicata al mondo del motorsport e specializzata nel fornire servizi di comunicazione a tutte le realtà operative in questo ambito. Da quando lavoro in pista, tantissime volte mi è capitato di vedere piloti capaci di andare fortissimo, ma poi penalizzati dal fatto di non saper vendere al meglio la propria immagine. Quante volte mi è capitato di sentire, non ho budget per la comunicazione? Ma come si fa? Ma com'è possibile non capire che non c'è investimento migliore se non quello su noi stessi? Perché possiamo anche essere dei fenomeni, ma se poi ci mancano i soldi per poterci iscrivere a una gara, per un pezzo di ricambio, per un set di gomme, come possiamo pretendere di crescere nel mondo del motorsport? Si devono avere degli sponsor. E gli sponsor come si ottengono? Curando la propria immagine. Altrimenti, se il palazzo è costruito senza le fondamenta, finirà presto per cadere. E oggi parliamo proprio di come evitare questo. Sono tanti quelli che ogni giorno mi chiedono, Marco, ma allora come si fa a comunicare nel migliore dei modi la propria immagine? Quante volte mi sono sentito fare questa domanda? E allora, iniziamo dalle basi. Devi assolutamente avere al tuo fianco un professionista o un team di professionisti esclusivamente dedicati a questo compito. Non improvvisarti in ciò che non sei, altrimenti rischieresti soltanto di fare danni. E allora adesso prendi carta e penna e segnati questa lista di cose da fare, perché sono gli elementi che non devono mancare in una comunicazione adeguata per chi voglia intraprendere un'attività in pista. Non interessa che tu sia un pilota alle prime armi, una scuderia o un organizzatore di campionato. Con questa ricetta riuscirai a comunicare in maniera efficace la tua immagine. Numero 1. Assicurati innanzitutto di avere un sito web graficamente valido, veloce e mobile friendly e soprattutto costantemente aggiornato. Numero 2. Affidati a un ufficio stampa esperto del settore che sappia comunicare a tutta la propria rete di contatti in maniera efficace tutto ciò che riguarda la tua attività in pista nell'arco del weekend, prima della gara, durante la gara e anche dopo. Numero 3. Una presenza sui social costante ed efficace. Esiste ancora chi pensa che avere una pagina Facebook o un profilo Instagram sia del tutto inutile. Ma ragazzi, siamo nel 2020. Per avere la giusta audience dobbiamo andarcela a cercare. E dove credi che siano al giorno d'oggi le persone se non sui social network? Quindi fatti realizzare una serie di contenuti mediatici, dalle foto ai video, capaci di poter essere pubblicati nel corso della stagione ed in grado di fidelizzare al meglio tutti i tuoi follower. Scegli e affidati un bravo professionista, che sia un bravo fotografo o un bravo videomaker, in grado di esaltare e cogliere nel migliore dei modi le tue caratteristiche estetiche o quelle della tua vettura. È inutile farsi il selfie da soli e poi pubblicarselo. Che immagine voglio dare di me? Quella di un professionista o quella di un improvvisato della comunicazione? Numero 5. L'ho già detto in un video precedente, ma il modo migliore per lanciare la tua immagine a potenziali sponsor è quello di realizzare una brochure digitale o cartacea dove indicare tutti i propri successi in pista, i propri sponsor, il proprio programma in pista, le caratteristiche della propria vettura, il proprio team, insomma tutte le informazioni utili per potenziali sponsor o per chiunque volesse intraprendere un investimento sulla tua attività. Questi sono solo alcuni dei passaggi fondamentali per curare nel migliore dei modi la tua comunicazione. Ti li ripilogo velocissimamente. Numero 1. Un sito web valido, efficace ed aggiornato. Numero 2. Un ufficio stampa di cui fidarti. Numero 3. Una presenza sui social costante ed efficace, molto importante. Numero 4. Immagini e video professionali. Numero 5. Una brochure professionale da fare in video. Seguendo queste 5 indicazioni otterrai un'immagine professionale per te e il tuo team e potrai quindi emergere al meglio anche dalle categorie minori proprio sfruttando al massimo la tua immagine. Cos'è che oggi non riesci a comunicare al meglio? Non sai come scegliere un ufficio stampa? Non sai come impostare una brochure? Scrivelo qui, nei commenti, e ti fornirò tutte le informazioni utili per risolvere il tuo problema. Se ti è piaciuto questo video, lascia un bel like e condividilo naturalmente con coloro ai quali possono trovarlo utile. Io ti ringrazio per averlo visualizzato. Ti saluto, appuntamento al prossimo video e naturalmente ricorda che con l'IGP Communication la tua comunicazione corre a 300 all'ora.